PNRR ma non solo, incentivi sull'edilizia, opere pubbliche extra PNRR, oggi dobbiamo dare delle risposte. Lo faremo come stiamo già iniziando a fare, ossia approvando il codice appalti, facendo una ricognizione dei bonus edilizi. L'onorevole di Forza Italia, Erika Mazzetti, componente dell'ottava commissione ambiente, faccia faccia con le categorie economiche e gli ordini professionali sul tema del nuovo codice degli appalti. Non serve oggi criticare ma serve dare le proposte ed è per questo che sto preparando una proposta di legge che va proprio nel riordino degli incentivi edilizi che si devono basare su tre capisalvi fondamentali come il risparmio energetico, idrico e spismico e che dobbiamo andare avanti in questa direzione. In questi giorni è stato approvato anche il codice appalti che servirà allo sviluppo futuro del nostro paese e non al PNRR perché il PNRR in buona parte già è stato assegnato ai progetti e fra l'altro dal legge è stato deciso di farlo con i decreti semplificazione e il decreto PNRR. Un incontro organizzato dal coordinamento provinciale del partito. Abbiamo voluto parlare direttamente con coloro che tutti i giorni vivono queste tematiche e sono i professionisti per evitare di fare i soliti proclami, lo sciacquarsi la bocca in maniera semplice e che poi serve a poco. Oggi è una domanda risposta quindi senza rete, mettendoci anche la faccia, l'onorevole Mazzetti come si dice è dotata di coraggio perché chiaramente quando si governa bisogna avere anche quello e spiegare anche provvedimenti che sul momento possono apparire non totalmente graditi ma se spiegati e compresi probabilmente aiutano tutti i professionisti e i cittadini ad avere le migliori risposte.